Veniamo alle tematiche economico-sociali, sgradite sorprese al ritorno delle ferie per i cittadini. Parliamo degli aumenti della benzina. Oggi a Milano è stata sfondata la soglia dei 2 euro al litro per la verde. Noi facciamo il punto nella scheda di Davide Cotto. In alcuni distributori in autostrada il prezzo della benzina sfiora i 2 euro al litro, colpa dei benzinai che speculano sul controesodo estivo degli italiani. La denuncia arriva dal Kodakons, l'associazione dei consumatori, che lancia anche un appello agli automobilisti imbottigliati sulle autostrade. Fotografate i listini con i prezzi record. Poi, continua il Kodakons, pubblicheremo tutto e si potrà aderire all'azione risarcitoria per i danni da speculazioni sui carburanti, dopo il risultato dell'inchiesta della procura di Varese. L'unione petrolifera però non ci sta e ricorda di aver tenuto un atteggiamento cauto e responsabile, consigliando ai gestori i prezzi ben al di sotto. In ogni caso c'è da tenere presente che esistono tensioni internazionali che pompano il prezzo del greggio come il possibile attacco americano alla Siria. E che in Italia, più della metà di quanto un automobilista paga la benzina, il 60%, viene mangiato dalle accise del fisco. Con un rischio in più all'orizzonte, se a ottobre aumenta l'IVA, ci saranno da pagare circa due centesimi in più al litro, con buona pace dell'andamento dei prezzi al consumo. Ma il Kodakons, che afferma di aver ricevuto centinaia di proteste da parte degli automobilisti, torna ad attaccare puntualmente in occasione del controesido estivo i prezzi dei carburanti schizzano al rialzo. E il presidente Carlo Rienzi spiega che ormai la verde sfiora quota 2 euro al litro lungo le autostrade. In molti distributori, il prezzo della pompa supera quota 1 euro e 960 centesimi al litro. Il fenomeno dei rincari in occasione delle partenze degli italiani è cosa nota, al punto che la magistratura, su esposto Kodakons, sta indagando sulle speculazioni. Poi il sindacato chiama in causa il governo. Letta, invece di pensare ad altri aumenti delle accise, con la clausola di salvaguardia del Limo, dovrebbe intervenire per punire i petrolieri, i quali, chiamati in causa, replicano. Ribadiamo il comportamento responsabile delle compagnie petrolifere, che per tutto il mese di agosto hanno mantenuto fermi i prezzi a fronte di un aumento di oltre 6 centesimi registrato sui mercati internazionali.